Ciò che non vi piace della vostra vita. La voce interiore, attraverso Roberta S. Guide. Allora, siate sereni per tutto quello che riguarda il genere umano, ma anche per quello che riguarda la vostra singola vita. Provate per un attimo a guardare ciò che non vi piace della vostra vita, con l'occhio di chi sa che quel non piacervi è in realtà una non comprensione di qualcosa e non riuscire a comprendere vi fa soffrire, vi fa sentire limitati e vi porta a ragionare su questioni anche in maniera del tutto errata, da come la vostra anima vorrebbe suggerirvi. Allora, provate a mettere a tacere quelle opinioni negative che potete avere sui vari argomenti e cercatene di positivi in ogni situazione. Provate in ogni momento a tirar fuori quello che di meglio potete tirar fuori da voi, anche dalla vostra mente, che non va disprezzata, ma va pilotata in un certo senso. E se la aprirete nei confini del vostro spirito collegato alla vostra anima, vi accorgerete che poi, tutto sommato, dalla vostra mente potete imparare molto e potete comprendere tutto quello che ora vi spaventa e di cui non capite la ragione. Non si tratta di capire e comprendere un meccanismo, ma di accogliere nella vostra vita esattamente ciò che succede, perché accogliere significa essere e quindi per essere felici non avete bisogno che accada qualcosa in particolare, ma necessitate piuttosto di ritrovare quello stato d'essere in grado di portarvi a vibrare ad una certa dimensione. Grazie a tutti.